ciao ragazzi bentornati oggi di cosa vogliamo parlare parleremo di una box di un nuovo prodotto made in italy luki luki è una full mac che ha come simbolo il corvo ok ragazzi andiamo a vederla da vicino e a trarre le nostre conclusioni ok ragazzi la box ci arriva in questa scatola molto originale come è stata creata andiamo a togliere lo spago e dentro abbiamo la luki luki mooning in questo caso ha lo sportello bianco come tazza monta una fat daddy realizzata in alluminio anotizzato tasto fire personalizzato con le zappette del corvo porta tre calamite all'interno abbiamo il blocco tasto la mella totalmente in argento andiamo a sedere la batteria e la boccetta super soft che ci arriva in dotazione batteria positivo sotto ok e porta. Andiamo a montare l'ATOM, sblocchiamo il tasto, perfetto. In opzione si possono avere porte di altro colore, io ho preso tutti e tre colori, il nero e il rosso, ci dovrebbe essere anche il verde e il blu mi sembra. Questa è la porta nera, molto elegante anche con questa, come potete vedere. E poi abbiamo il rosso. Carino anche questo. Poi in base a quello che si deve montare, l'ATOMISATORE, il DRIP TIP, poi si può abbinare. A me piace molto col bianco comunque, col bianco una finitura particolare. Moaning. Lochi. Ok ragazzi, nella scatola abbiamo anche un adesivo. questo qua. oltre a una avvertenza di manutenzioni sulle URAP, sulle batterie. Pugin e Moaning. Moaning. Diciamo che è tutto. Passiamo a una prova di vapea e all'ultima considerazione finale. eccoci qui ragazzi, con la Moaning, lochi. SQUONK. SQUONK. bella, mi piace molto con la porta bianca, bianca e anche alla nera non mi dispiace. logicamente con la nera ci va il DRIP TIP nero poi, no? così. bella idea di, del modder Stefano Rossi che saluto. ok ragazzi, questa è la mia recensione, vi ho fatto vedere tutto su come è realizzata la box e la consiglio tranquillamente perché ha fatto abbastanza bene. nella prossima uscita forse dovrebbe cambiare la tazza, non dovrebbe essere più una Fat Daddy, ma qualcosa di diverso, con Pino regolabile credo. ok, questo è tutto ragazzi, questo è il mio video. se vi volete iscrivervi al mio canale, questo è il mio canale. un saluto a tutti. ciao da Davide. ciao. 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 ciao.